Eeeh what day a tutti ciurma e benvenuti da Giochirino in questo nuovissimo episodio su Gris Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 30 like per questo nuovo video Ed eccoci qua di ritorno ragazzi in questo incredibile, meraviglioso gioco di pura poesia E la volta scorsa eravamo appunto giunti qui Ci siamo accorti che ora come ora ragazzi l'unica cosa che stiamo facendo è sempre ascendere Quindi puntare verso l'alto e avevano inserito anche una sorta di nemico l'altra volta diciamo così Questa rondine nera che ci ha inseguito che ci urlava contro Della quale comunque ci siamo serviti anche tra l'altro per riuscire a proseguire E una volta giunti qui la rondine si è tipo disfatta diciamo a causa del rumore ragazzi delle campane Per cui come sempre sappiamo che tutto questo avrà un significato Questo è poco ma sicuro E quindi non ci resta che comunque continuare il nostro incredibile viaggio Perché sono sicura che questo gioco ragazzi ci riserverà ancora diverse e meravigliose sorprese Ne sono proprio sicura abbiamo acquisito tra l'altro non ce ne dimentichiamo La possibilità di riuscire a fare doppio salto e a sfruttare anche diciamo una planata Tipo in stile spyro ecco E questa cosa ovviamente ci risulterà molto molto utile Poi abbiamo perso purtroppo il nostro amico cubo ragazzi Il piccolo omino di pietra che ci ha aiutato a suo modo anche a procedere Per cui intanto continuiamo a salire perché a quanto pare è l'unica cosa che possiamo fare per ora E non so se è una mia impressione ragazzi ma l'atmosfera si sta tipo incupendo Non vorrei dire una cavolata ma mi sembra che le nuvole ecco diciamo così Le nuvole rosse si stiano infittendo Per cui vediamo un po' Cosa ci attenderà più in alto ragazzi Oh Oddio ciao Sei tornata? Bellissimo rivederti davvero Merda Allora dobbiamo sfruttare le campane ragazzi Perché ovviamente l'ultimo pezzo di gameplay che abbiamo visto l'altra volta Ha fatto sì che capissimo che appunto la rondine viene ferita dalle campane Per cui proviamo intanto ad avanzare così ragazzi sotto forma di Eh vabbè Ok più le ci avviciniamo Più forte sarà il suo grido Diciamo così Ok allora vediamo un po' Porca vacca ecco In qualche modo Dovremmo far suonare questa grossa campana E non so se dobbiamo sfruttare In qualche modo ragazzi L'oscillazione Eh vabbè però se continua a cadere Non so se dobbiamo avvicinarci il più possibile a lei In qualche modo Vediamo un po' Possiamo salire anche da qua direttamente Perfetto Ovviamente lei cambia lato La furba La furba La furba cambia lato Continua a gridare quanto vuoi Facciamola gridare ancora più forte ragazzi Vediamo Cosa succede Ecco qua Immaginavo Siamo riusciti A zittirla per almeno per adesso Ragazzi Per cui Continuiamo ad andare su Wow Rimango sempre a bocca aperta ragazzi Di fronte a questi Scenari Assolutamente meravigliosi Cioè non credo ci sia una parola giusta per rendergli giustizia Per descriverli al meglio nella loro Incredibile bellezza Davvero Ogni volta mi ripeto Ogni volta Ripeto che appunto questo gioco mi lascia sempre senza parole Sia per le ambientazioni sia per la musica Un'altra fase Sia per la musica Questa volta Il colore È blu E Ovviamente Sono quasi sicura che anche i colori Hanno il loro significato Perché sembrano introdurre ogni volta una nuova fase E quindi Una nuova fase Deve essere legata A un colore E quindi quel colore Deve avere un qualche significato Dove andiamo a finire Oh No Siamo in grado anche di nuotare raga Ma che bello Sta cosa ci mancava Dai Possiamo trasformarci Pensavo potessimo trasformarci in pietra E quindi andare giù Però 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 Un modo per scendere di qua Non c'è almeno per ora Quindi dovremo Poter fare qualcosa Ominque per andare a fondo Diciamo Però ragazzi Una volta che cadiamo in acqua Sotto forma di masso Possiamo notare Che la protagonista Lascia la sua forma E quindi Ritornare a essere Normale Per cui non possiamo Servirci di quella forma Lì per andare a fondo Ok Lo terremo a mente Poi tra l'altro Ragazzi È iniziato anche a piovere Il blu potrebbe essere Il colore della tristezza Magari Perché adesso Sembra una cavolata Ragazzi Ma io sto ripensando Inside Out Dove sono state rappresentate Le emozioni E Il blu era il colore Di tristezza Quindi magari Potrebbe essere Che questi colori Siano proprio Scientificamente Diciamo Tra molte virgolette Riconosciuti Come collegati Alle varie emozioni Penso io Magari ho detto Una cagata Colossale Ragazzi È molto probabilmente Però Dico Potrebbero essere Collegate Le due cose Perché no Perché no Magari sì Vediamo oggi Ragazzi Dove ci conduce Questo nuovo Meraviglioso Scenario Che da qua Non ci arrivo Ma Ci dovrà pure essere Un modo Per arrivarci Vediamo un po' Aspettate Perché qua Le farfalle Qua ci stanno Però E da qua Non ci arrivo Inutile Potrei provare Ancora 20 miliardi Di volte Ma Non ci arrivo Va bene Questo è assodato Dai Per cui proviamo Ad andare avanti Magari Troveremo un modo Per poter tornare Pure indietro Fino a lì Può Può essere Può darsi Però vedete Io ste farfalle Non ci arrivo Non ci arrivo Allora Qua c'è un collezionabile Che mi piacerebbe Molto Raccogliere Sinceramente Ma Per ora Credo sia inaccessibile Ma quanto devo tornare indietro Per poter andare avanti Cioè Quanto devo andare avanti Per poter tornare indietro Semmai Non lo so Vabbè Intanto comunque Continuiamo Dunque da notare Ragazzi Che in questo tempo Uggioso di pioggia Ci sono Dei raggi di sole Ogni tanto Quindi credo Che anche questo Abbia Il suo significato Perché farmi salire Fin qui Ah vabbè Perché non potevo Passare ovviamente Ah qua c'è dell'acqua Non l'avevo neanche notato Bene Ci sarà data La possibilità La possibilità Comunque credo In qualche modo Magari più avanti Ragazzi Di poter Oh Minchia ci ha spinto In avanti Di poter Nuotare Magari anche Cioè Più che altro Di poter Di poterci Immergere Oh 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 Attenzione Che queste cose dovrebbero essere abbastanza Continue Ma io Sto perdendo il ritmo Diciamo così Benissimo Ci hanno dato la possibilità Di procedere un po' più velocemente Però già qui di farfalla E non ne vedo più Per cui Continuiamo Ad avanzare Questi simboli Sempre Significheranno qualcosa E qua ci è data La possibilità Di ricevere Un altro Dono Diciamo così Un altro potere Ah no Qua i due luci Si uniscono Alla costellazione Che già si era formata Fino ad ora Bene Ok Perfetto Abbiamo donato I nostri Piccoli amici Al cielo E qua Ci mostra Come se avessimo Inserito Questi luci Diciamo così E come se ne mancassero due Io purtroppo ragazzi Questi simboli Questi segni Non Ancora riesco Effettivamente Ad interpretarli E quindi Boh Allora Qua c'è data la possibilità Di andare su E qua c'è data la possibilità Di andare avanti E io continuo Cioè Sempre Certe volte A perdermi un pochettino E a non capire di preciso Dove devo andare Prima Quindi Questa cosa è un po' Dispersiva Probabilmente È fatta anche Di proposito Vedete Qui c'è un altro disegno Dove invece È stato inserito Soltanto uno Quindi Non Non lo so ragazzi Non lo so spiegare Sinceramente Perché vabbè Di là non c'era più niente Quindi torniamo di qua Perché si poteva Proseguire pure Di sotto Ragazzi A destra Quindi Qua ci sono Delle farfalle Che ci permettono Di andare su E quindi Che ci permettono Di andare ancora più su Ma non sono abbastanza Mi sa Evidentemente Per cui Non so se proseguire Di qua a destra O sotto a destra Non lo so Vediamo un po' L'unica cosa Che posso sperare Ragazzi In questi casi È di stare riuscendo A fare bene Comunque Le cose che Che devo fare Vabbè Qua comunque C'è stato detto Chiaramente Che non si può proseguire Perfetto Così ci siamo tolti Un dubbio Almeno E quindi Torniamo di sotto E andiamo a vedere Dove ci conduce L'altra strada E che io In editing Ragazzi Quando edito Questo gioco Qua I video Su questo gioco Qua A volte Noterete Che lascio Quindi che non Taglio via Anche dei momenti In cui magari Io non parlo Però vi giuro Ragazzi Vi giuro Che È Difficile Per me Tagliare via Pezzi Di questo gioco Per quanto Sono belle Le musiche Al suo interno Per cui Per quanto Sono belle Le atmosfere Al suo interno Allora Manco di qua Possiamo andare Per cui Di qua Possiamo scendere Però Ok Oh Qua è raffigurata Una tartaruga Che bella È cambiata Un attimo L'atmosfera Qua Però Chissà 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 Oh Sono bellissimi Sti posti Ragazzi Comunque Hanno dato Un'architettura Anche Ai vari Luoghi Che caratterizzano Questo gioco E si va appunto Da luoghi Sia ragazzi Di costruzione Come abbiamo visto Fino a un attimo fa A luoghi Naturali Adesso ci stiamo Addentrando addirittura Ragazzi In una caverna Diciamo così In delle grotte Non so come poterle definire Ed è meraviglioso Per cui Ancora più in fondo Oh oh Ciao piccoli Vabbè Di voi Non mi preoccupo Perché non credo Che siate in grado Di farmi del male Per cui Vediamo un po' Mi ha appena salvato La partita E qua Possiamo buttarci Di sotto Ma la cosa giusta Da fare Io credo di sì Ragazzi Non credo Ci siano altre cose Per cui Uuuu Addentriamoci Ancora di più All'interno Di queste grotte Incredibili Bellissimo Comunque Anche questo Bellissimo Davvero Davvero ragazzi Cioè Non so Con che maestria Sono riusciti A creare Tutto questo Perché Come ho già detto Decine di volte Penso Ormai Da quando ho iniziato Questo gameplay È poesia pura Qualsiasi cosa All'interno Di questo gioco È pura poesia Ok Andiamo giù E poi Di qua Perfetto Opla C'è pure L'aspetto Di qualsiasi cosa Di questi animali Che ci hanno inserito Animali Queste creature Queste piante Questi colori Ragazzi Cioè guardate i colori Di qua sotto Cioè tipo Luminescenti Cioè è spettacolare Ok Vediamo Un po' Cosa Possiamo Fare qui Eeeh Wow Questo lo possiamo Spaccare Credo Ah no Mi sono sbagliata Poco di grosso Se mi lancio Da qui sotto forma Di pietra Magari riesco Ad arrivare Fino in fondo Ah Cioè ragazzi C'era Un tratto D'acqua E poi di nuovo L'aria Cioè No Che non A questo punto Delle cose Non so più Come commentare Quello che vedo Se non Con il mio Immenso stupore E la meraviglia Nei miei occhi E cioè Sarà sempre Continuamente Così Non saprò più Cosa dire Come esprimermi Riguardo Questo gioco Wow Ma che meraviglia Che meraviglia è Incredibile Forse avrei dovuto Lanciarmi dalla sopra Per andare lì Però non so se Comunque c'è qualcosa In ogni caso Andiamo Di qua ragazzi Perché qui non possiamo Fare niente Almeno per il momento Per cui Addentriamoci In questo Cunicolo E vediamo Cosa c'è Dato la possibilità Di fare Io mi rendo Anche conto Ragazzi Che probabilmente Mi troverete Anche estremamente Ripetitiva Quasi sicuramente Però c'è ragazzi Di fronte a cosa Del genere Come Posso non essere Ripetitiva Perché Non possiamo Che dire C'è sempre Le stesse cose C'è ragazzi Guardate Sti funghi Queste piante Che reagiscono C'è no Con questo segnale Luminescente E C'è E' fantastico C'è come hanno curato Ogni minimo Dettaglio Io C'è ragazzi Rimango commossa Ve lo giuro Commossa Da Da tanta Beltà Incommentabile Ok Qua possiamo In qualche Modo E qua possiamo Scendere Ok Voilà Io non so Manco se Sto andando Dalla parte giusta Sinceramente Oh Cos'è Neve Tipo Wow Wow Dove siamo Adesso Mannaggia La pupazza Oddio C'è ragazzi E' così dispersivo Sto posto Ma qualsiasi Posto Non so Se è un bene O un male Ma In certi momenti Vi giuro Che Mi lascia Pensare Oddio Ma forse Sarei dovuto Andare dall'altra Parte Però Io credo Che Abbiamo previsto Magari Che uno Va da una Parte O forse Uno va Dall'altra Quindi In qualche Modo Comunque Le cose Si completeranno Credo Ok Possiamo Saltare in alto E poi Trasformarci In pietra Da qui Perfetto Per poter Andare sotto E poter Riemergere Dall'altra Dall'altra Parte Ok Che anche Le meccaniche Le hanno Rese Cioè Tipo Questi piccoli Enigmi Abbastanza Semplici Da risolvere Ma comunque Non banali Credo Oppla Oddio Non so più Cosa dire Oh Qua ragazzi Ci danno Un altro potere Mi sa Eh Però abbiamo Un bisogno Di due Luci Per cui Andiamo alla Ricer Eh no Vabbè Sti cristalli Eh no 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 Cioè Basta Mi state A torturare Non è Non è Ma che Cazzo Oddio Se rimane Troppo A lungo Ferma Ragazzi Si trasforma Un ghiaccio Quindi questi Sono cristalli Di ghiaccio Oddio Come ci arrivo Oh no Come ci arrivo Adesso Qua Merda Ok mi sto facendo Prendere Ah forse Trasformandoci In ghiaccio In cubo No Vabbè No Vabbè Cioè raga Ma quante ne hanno Pensate Ma quante Ne hanno Pensate Magari Succede Anche Mentre Siamo In aria Aspettate Bisogna Avere Un tempismo Merda Me la son Giocata Male No 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 Raga Non è commentabile Una roba Del genere Eh ma sono fatta Di nuovo Un tempismo Di merda Incredibile Perché vedete Se giro Nel momento In cui ovviamente Si sta ghiacciando Il ghiaccio Si rompe No Allora Forse lo devo fare Semplicemente Stando qua sopra Probabilmente Restiamo così Oh mio dio Cioè No Nemmeno così Oh Mannaggia La pupazza Quindi Magari Bisogna Salire E formare Un'altra forma Sopra Questa Probabilmente Voilà Oh Vabbè No 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 Cioè Non Non posso avere Nient'altro Da dire Cioè Se non Che Cioè Si aggiungono Sempre Nuovi elementi Ragazzi Che sono Assolutamente Incredibili Cioè Pure sta cosa Si trasforma in ghiaccio Rimane della forma Che è E quindi Puoi sfruttarla Per arrivare Più in alto Cioè Ma di che Stiamo a parlare Ma di che Cosa stiamo Parlando Di qualcosa Di assolutamente Meraviglioso E mi Continuerò A ripetere Mi Continuerò A ripetere Ragazzi Non Non Credo Di poter Avere Molto Altro Da dire Qua c'è Qua c'è Questa struttura Ok Vediamo Un po' Come si può fare Teniamo questo giù Adesso bisogna soltanto Un attimo capire Ragazzi La meccanica Devo solo capire Che cosa devo fare In effetti Per poter Prendere Questo Luci Ah bisogna aprirlo Fondamentalmente Ok perché ho visto che c'è un momento In cui sta forma Rimane aperta Benissimo Ma proviamo a tenere Questo qua sopra Ok questo Non va Non va più su Cioè non va più giù Semmai Vediamo Un pochettino Ok ecco Ci ho fatta Ci ho fatta Sì Ok Perfetto Ci è voluto un po' Un attimo Per capire come sta funzionando La cosa Ma Sono estremamente impaziente Ragazzi Perché Credo Che stiamo per andare a prendere Probabilmente un altro potere Perlomeno aveva l'aspetto Degli altri posti In cui abbiamo preso i poteri Ragazzi Per cui L'impazienza Mi sta mangiando viva Restiamo pronti Eccoci qua È un altro potere Un altro potere Oh Sì Oh Mio dio No 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 Oddio Raga Oddio Lo sapevo Che ci avrebbero dato L'opportunità Di nuotare No 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 Cioè Ma si trasforma direttamente così Quando entra in acqua Sì Oh vabbè No C'è che 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 C'è che altro si può dire Ragazzi Se adesso ci pongono di fronte Anche a un Uno scenario marino C'è Vogliono farmi piangere Questi stronzi Maledetti Mi vogliono far piangere Perché c'è È tutto troppo bello Non si può commentare in altra maniera Credo Ok Sempre più in profondità Sempre più verso l'abisso Oh Dove va Dove va Vieni qui Opla Siamo fuori Piano Ok Ancora più in fondo Io vado ancora più in fondo Non mi interessa Oh Ok Mi bisogna trovare La bellezza Di altri Quattro luci Ragazzi Quindi Quest'ambiente Probabilmente Che ci circonda Sarà Tipo un po' Immenso Eh Vabbè Allora Mi ha appena salvato la partita Ragazzi Continuo davvero Non avere parole O perlomeno Se ho parole Sono sempre le stesse Io vi chiedo scusa Sono terribilmente ripetitiva Ma È questo gioco Che fa sì che io sia ripetitiva Perché Sono sempre incredibili Le cose nuove Che ci pongono di fronte Sono sempre così belle E così meravigliose Ragazzi Che non posso fare altro Che ripetermi E dire che è meraviglioso Questo video termina qui Grazie a tutti Un bacione E obdosio a tutti ragazzi Ragiocherina Ciao Ciao